A seguito di alcuni problemi burocratici che avevano costretto a rinviare l'attivazione del metrò del mare, finalmente sabato 15 luglio il servizio, che garantirà collegamenti tra le costiere cilentane e amalfitana, Salerno e le isole, sarà a disposizione di quanti vorranno usufruirne, con un ritardo di circa un paio di settimane. Dato che la partenza era prevista per il primo di luglio, i collegamenti via mare sono confermati fino al 31 agosto e verranno garantiti per le prossime quattro stagioni estive. Tutto ciò è stato possibile grazie ad un finanziamento della Regione Campania pari a 4 milioni di euro. I porti interessati sono Agropoli, San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casalvelino, Pisciotta, Palinuro e Sapri. Queste le linee previste. Linea 1 Salerno-Costa del Cilento, attiva sabato e domenica. Linea 2 Cilento-Costa d'Amalfi, attiva dal lunedì al venerdì. Linea 3 Sapri-Capri-Napoli-3A, attivo il martedì, il mercoledì e il giovedì. 3 B, attivo il lunedì e il venerdì. Linea archeologica Flegrea-Vesuviana, attiva dal martedì al venerdì. Previste anche agevolazioni tariffarie. I bambini fino a 3 anni viaggeranno gratis, invece i ragazzi fino a 12 pagheranno 3 euro. I costi dei biglietti invece variano tra i 3,50 e i 17 euro. Buone notizie dunque per i turisti che ogni anno giungono sul nostro territorio, potendo godere delle bellezze paesaggistiche e naturalistiche che le nostre coste offrono.